Yo ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video finale con commentari del torneo di Dragon Ball Fusion World versione digitale organizzato da Kiko Z. La finale è stata verde contro rosso, Shantaram contro Alex89, quindi direi non perdiamo altro tempo, andiamo a vederci questa finale e dopodiché vediamo anche la lista del vincitore. Se volete invece rivedere praticamente tutto il torneo per come è stato streammato vi rimando al canale Twitch di Kiko Z. Prima di cominciare vi invito come sempre a lasciare un like, lasciare un commento, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, è totalmente gratuito ma facendo così mi supportate un sacco. Quindi raga, fatelo e detto ciò, let's go! Eccoci qua con la gran finale del torneo organizzato da Kiko Z tra Shantaram e Alex89TBM. Abbiamo quindi Gohan, Gohan, ne ho trovati un botto durante questo torneo, contro Goku Universo 7. Quindi raga, direi mostriamo le carte di tutti quanti e godiamoci, gustiamoci questo match finale. Partenza di Goku, subito che carica un'energia, droppa Roshi, pesca una carta e vediamo che il nostro Alex gioca anche Frost come pezzi del deck. In questo caso non so raga quanto sarà utile contro un verde dal momento che non c'hanno pezzi da 20.000. E i pochi che hanno possono spaccare anche senza attaccare, vedi Vegeta. Comunque sia, turno di Gohan, rapidissimo, torniamo a Goku. Droppiamo direttamente un Vegeta con critico per pressare un po' e passano due attacchi praticamente, 6 punti vita a 8. Ora, si rampa subito, sostituiamo l'Energy Mark con un'energia vera grazie a Destructive Strength. E ora Gohan cerca di controllare la board, quindi attacco su Vegeta. Viene sacrificato Roshi per pompare a 20.000. Un'energia libera, entra un Gohan sercino. Vediamo cosa si aggiunge alla mano quel Vegeta che vi dicevo raga, per rampare anche il turno successivo. Magari non potrà attaccare perché ora potrebbe entrare in campo Frost. Dal momento sì che contra-energia sarà l'unica giocata, ma al tempo stesso l'utilità è abbastanza limitata in questo matchup. Nel frattempo abbiamo un altro attacco di Vegeta. A questo giro Gohan decide di pararlo perché non vuole perdersi altre carte, anche se in realtà si sta facendo un gran bel vantaggio raga. Il verde ora come ora può permettersi di incassare, farsi vantaggio carte e non giocare troppi pezzi sulla board. E comunque sì arrivare verso la fine del match con un vantaggio clamoroso. Quindi andiamo avanti, entra Frost in battaglia, decide di non attaccare con Frost, probabilmente per timore o anche semplicemente per lasciarlo a 5 punti vita. Sta di fatto che resta lì Frost, ma anche se avesse attaccato non so quanto il nostro Gohan si è interessato nel farlo fuori, ecco. Quindi andiamo avanti, peschiamo un'ottima energia, dritta dritta nelle energie, buttiamo Vegeta a costo 4, non può attaccare ma le sue skill forti sono altre. Quindi rampiamo un'energia, facciamo un attacco su Vegeta. Ok, qua non so se avrei salvato per il semplice fatto che se lo salvi così butti via una carta e noi al tempo stesso buttando via una carta lo facciamo fuori in modo garantito. E il vantaggio carte per farlo direi che ce l'abbiamo. Ora vediamo se farà questa giocata, esattamente sì, se ne va una carta, Vegeta viene spaccato. Goku per il momento, raga, sta rimanendo a 8 vite, ma non si sta creando una situazione di vantaggio. Infatti 7 carte in mano, ora verrà pescata e caricata all'ottava contro 4 in mano, di cui 0 combo value per una e per l'altra. Una carta difensiva volendo, ma che ha bisogno di un'energia stappata per essere utilizzabile. E una super combo, quindi bene ma non benissimo per Alex al momento. Continuiamo, si pesca un'altra super combo, poche possibilità di giocate. Quanto meno c'ha le 4 energie per giocare il Goku Ultra Istinto, anche se ci stiamo avvicinando verso le 6-7 energie, dove molto probabilmente verrà fatta piazza pulita. Ok, decide quindi di giocare un piccolo vanilla, probabilmente per non rischiare di perdersi un pezzo un po' più pregiato con un'eventuale pulizia della board. Gon a questo punto va 4 vite, viene awakenato, più 10.000 di combo e piccolo è totalmente parato. Altre giocate? No, con un'energia non è possibile. Viene pescato un altro Vegeta, altra energia. Destructive Strength si aggiunge alla mano con questo attacco. Finalmente Goku inizia a incassare, sta rimanendo troppo 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 indietro raga. La potenza di questo Goku è avere dei pezzi sul campo che guadagnano 5.000. Se resti così alto di HP per così tanto tempo, 7 energie, 7 vite raga, vuol dire che non riesci a fare la pressione necessaria per mettere in difficoltà un Gohan. Almeno secondo il mio parere raga. Dentro questo Trunks, molto scomodo per pulire le board, non può attaccare il leader avversario, ma è un 25.000 costo 2 che può occuparsi appunto di tutti i vari pezzi sulla board. Senza contare che ha un 10.000 di combo value, tanta roba come carta. Ok, salvataggio per piccolo, più 10.000, sempre 4 carte in mano per Alex e 6 per Shantaram. 25 su 25 stavolta non c'è il salvataggio e anche qua raga. Ok salvare i pezzi sulla board, ma se stiamo a così tante vite siamo letteralmente staccati con questo Goku. Non abbiamo Self Awakener in mano. Lui attaccando non può mettere pressione su letteralmente nessun pezzo della board avversaria, tanto meno leader. Se non pompandosi di carte, ma siamo in svantaggio totale di carte. Quindi io qua avrei lasciato andare piccolo e magari mi arrivava qualche attacco, vedevo qualche carta e mi avvicinavo all'Awaken. Viene pescato un virus buono in questa situazione perché incredibilmente può pulire una prima board verde. Purtroppo poi risulterà inutile dai turni successivi, visto che ci stiamo avvicinando a dei costi un tantino superiori alla pulizia di virus. Ma qua è ottimo, anche se ci fa un altro meno uno in mano. Bene ma non benissimo quindi. Altra pescata, altra carta che tendenzialmente non volete vedere così tanto in una situazione del genere con zero energie libere. 35.000 su Gohan. Qui non ho capito raga, qui non ho assolutamente capito la giocata di Shantaram. che si è letteralmente buttato un 10.000 a gratis praticamente, non ha utilità nell'averlo in drop, non lo so. Probabilmente è stato un misplay, pensava di buttare una super combo, sta di fatto che si è sprecato una carta e si è preso anche l'attacco critico, quindi si è perso un'altra vita. Sì infatti si è proprio buttato 10.000 in combo per parare un 35. Non so raga, sarà stato un misplay? Chi lo sa. Sta di fatto che ora, tocca a Gohan, si pesca un altro Destructive Strength dritto dritto nelle energie e da qua in poi raga praticamente il match è a senso unico. Ecco, nonostante le sette vite di Goku, nonostante queste sette vite contro tre, è praticamente finito da qua in poi perché entra un Broly, 45.000, pesca uno, pesca un altro spacchino per costo 4 o meno, praticamente il 90% di qualsiasi deck tranne il verde. Broly ti spacca Beerus sicuramente, ti attacca due volte e ti mette una pressione pazza esagerata, quindi vediamo un po' come va a finire questo match. 3 super combo in mano, buon combo value da una parte, mentre di qua abbiamo unicamente 2 super combo e una extra che richiede appunto un'energia libera per essere utilizzata. Quindi Broly entra, spacca Beerus, attacco diretto di Gohan su Goku e ora volendo vedere raga, può anche lasciarlo tranquillamente a 5 vite, magari gli fa giusto un altro attacco. Ma tendenzialmente non vorrei awakenarlo in questo momento, visto che è palese che non abbia self-awakener in mano, è infatti esattamente quello che fa. Viene pescato un altro Beerus, si passa con Broly stappato attivo, quindi difficile anche approcciarlo, attaccarlo, farlo fuori in questo turno. Terza super combo in mano, doppio Beerus in mano, ne gioca praticamente 3 almeno, quindi pesantucci forse. Parte la super combo a sto giro, non c'è il misclick, immagino fosse stato un misclick quello di prima, 40.000, ci pariamo totalmente. Tocca nuovamente a Gohan, peschiamo un Goku Cell, è proprio overkill raga, overkill. Ora abbiamo la skill di Gohan praticamente gratuita da attivare, possiamo diventare un 35.000 in ogni turno senza temere assolutamente nulla, senza pagare costo. Quindi attiva la skill, 35.000, viene sfondato questo Beerus e abbiamo Broly pronto ad attaccare. Pronto per fare ben due attacchi, ma, 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 forse qua è fin troppo. Forse qua tendere ancora è un pochino troppo, ma vediamo se poi avrà la ragione dalla sua. Conoscendo la mano, raga, vedendo da qua, dico, ok, potenzialmente ha fatto anche bene perché non ha assolutamente nulla di buono in mano per ribaltare la situazione. D'altra parte, però, con una board del genere, con Broly che potrebbe attaccare ben due volte, mandarlo a tre forse non sarebbe stata una giocata scorretta, anche perché... Onesto, com'è che ti ribalta una board del genere? Rosso non ce la fa, può farti fuori due pezzi calando un altro Beerus, facendosi un altro meno uno in mano, ma il problema principale resta lì. Comunque sia, altra carica, sette energie per Goku, ok, si pesca un Gohan meno diecimila per tutta la board, qua se avesse avuto abbastanza energie, abbastanza cose giocabili, poteva spompare abbastanza Broly per tentare di farlo fuori, ma purtroppo solo il verde rampa le energie e può fare cose sporche, è arrivato a questa parte del gioco. Dentro un altro Beerus, può pulire loro due, ma, appunto, il problema principale resta, è lui. E non è nemmeno tappato, quindi non possiamo manco pressarlo. Altro attacco, altra super combo che se ne va, altro... Altra mossa parata, praticamente, e resta tre vite Gohan. Goku resta cinque, impossibilità di self-awakenarsi. Anche se comunque avrebbe aggiunto poco a questa board. Sì, un 40.000 Subirus in realtà non è poco, visto che non si sarebbe più parato con le super combo. Due super combo per pararsi dagli androidi? Anche qua, raga, io non avrei agito in questo modo. Sono a cinque, mi stanno lasciando, appunto, alto di vita, perché non ho alcun vantaggio a stare alto di vita. Ho due carte in mano, prima ne avevo quattro, ma me ne sono usate due per parare un attacco che mi avrebbe mandato a tre. E a quel punto mi avrebbe fatto vedere un po' di carte. Certo, c'era Broly ancora pronta ad attaccare, però nel senso l'avversario a tre, se mi fa un doppio attacco, vado comunque a uno, magari uno me lo paro. Vedo più carte, non ne spreco così tante, non vado così in svantaggio, e finalmente Goku c'ha un'utilità. E invece no, è rimasto a cinque punti vita e... E come vedremo non ha risolto molto. Dentro Gohan non spacca Beerus perché è troppo grosso per spaccarlo, ma abbiamo un altro trentamila in campo, praticamente, per mettere ancora un po' più di pressione. Trentacinquemila su Beerus! Se lo lascia andare, qua praticamente il game è totalmente chiuso, non hai più modo di chiudere il match nel prossimo turno, con le carte in mano non hai la possibilità di farlo. Con Goku non puoi manco mettere pressione, quindi qualsiasi cosa peschi non servirà a chiudere il turno, purtroppo. Ok, Gohan non troppo utile, fa un attacco giusto per pescare e vedere qualcosina di buono. La carta viene subito buttata via anche qua, raga. Anche qua, non so quanto approvo questa giocata, nel senso che ok per pressare, Ma è palese che se c'ha dieci energie eppure senza Goku se è in campo, Gohan si pomperà 35.000, non entrerà questo attacco e di conseguenza tu hai fatto un meno uno in mano per fare un meno niente praticamente all'avversario. Cosa che si è buttato via di preciso un Wix? Sì, non che avesse molta utility, ma così proprio non ne ha avuta, raga. 25.000 su Gohan con 10 energie, si para gratis praticamente. Anche qua, altro attacco che non va a segno. Ora potenzialmente Gohan non è messo bene, guardando la mano, ma guardando la board c'ha qualcosa di irribaltabile, quindi... Vediamo un po' cosa si va a pescare. Ok, un altro Trunks. Anche semplicemente per occuparsi di Gohan diventa tanta tanta robetta. Finalmente decide di lasciar passare l'attacco shotgun degli androidi, quindi si prende due carte, si prende due vite. E a questo punto, finalmente raga, turno 20, qualcosa del genere, Goku riesce ad awakenarsi. Esiste Goku. Ora siamo sull'attacco di Gohan, 20.000 su Goku, sta decidendo se pomparsi. Ci siamo fermati, pardon, quindi 5.000 per difendersi. Qua ci sta assolutamente, perché 3 punti vita diventa impegnativo poi dover parare tutti i successivi attacchi. Penso sia finita. Penso che sia assolutamente finita. E vabbè, e vabbè. E vabbè, questo mazzo verde... È inarrestabile, raga, è semplicemente inarrestabile. Allora, si pompa 35.000, finalmente se ne va una Kamehameha. Riesce a parare quindi un attacco. Spompa Broly a 40.000. Altro attacco che parte, 40 contro 20. Altra Kamehameha dovrebbe pomparsi a 35.000, farlo scendere di altri 5.000. Mettere un'altra carta. Tutto questo per annullare un paio di attacchi di un Broly su due. No, raga, non... è troppo. Allora, qua può anche permettersi Gohan di non attaccare col secondo Broly. Poteva avere, che ne so, ancora due Super Combo in mano. È matematicamente possibile, potenzialmente sì, ne aveva usate un paio. Un effettivamente ce l'ha, magari ne aveva anche un'altra. Si parava, si parava, vedeva carte buone e ribaltava il match. Quindi, se è tenuto l'avversario con due di vita, Broly è qua attivo. Non può essere pressato, non può essere rimosso dal campo. Il prossimo turno sarà sicuramente quello finale. Vediamo, Alex pesca l'ennesima Kamehameha. Forse sono un po' troppine. Dopo vediamo anche le liste, raga. Comunque sia, attacco. Anzi, non so se riesco a far vedere le liste. Quella di Shantaram ce l'ho sicuramente perché ci ho giocato contro durante il torneo. Quella di Alex forse mi manca. Comunque sia, anche qua, un... Fatemi rivedere, raga, ha pompato ancora di 10.000 per attaccare Gon che può andare gratis a 35. Sono tornato un po' troppo indietro. Allora, fatemi rivedere, qua, attacca, pesca e si pompa di 10.000 per pressare un Gon che può buttare via un'energia. Rimanera 8, quindi. Oh, c'ho un altro Broly in mano. Il turno dopo te lo calo comunque. Poi, raga, possiamo parlare di giocata sbagliata fino a una certa perché effettivamente così come sei o stai giocando alla finale di un torneo e quindi dici, ok, mi stanno streammando, giochiamo finché si può o altrimenti fai una roba del genere e ti ritiri perché è palesemente irribaltabile come situazione. Quindi, Alex, sono dalla tua. Ti capisco, bro, ti capisco. L'hai fatto per lo show, insomma. Qua, finalmente, abbiamo il buff di Goku U7. Questo piccolo diventa gigantesco. 45.000 con l'ennesima Kamehameha. Kamehameha. Androidi spompati. Ma non è abbastanza, raga. Non è abbastanza. Parte un'altra supercombo dalla mano. Tutto completamente salvo. E mo' ci abbiamo... Facciamo vedere che, guarda, io volendo posso giocare quest'altro Goku's L. e quindi lui torna totalmente a gratis la sua skill. E c'ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei vite che praticamente se ne vanno così garantito perché non può pararsi, raga. Non può pararsi. È matematicamente impossibile. Il loro attacco non può salvarsi con nessuna carta in mano, raga. Quindi vediamo di finire sto match. Purtroppo è stato un po' un declino. Inizialmente, secondo me, Alex avrebbe dovuto scendere un po' più da capi, raga. Perché a conti fatti, la bontà di questo leader non si è mai sfruttata. L'abbiamo awakenato un turno fa, praticamente. L'unico che ha visto un più 5.000 è stato quel piccolo vanilla che si è schiantato contro gli androidi senza risolvere un gran che, purtroppo. Quindi, complimenti a Shantaram per essere il vincitore di questo primissimo torneo organizzato da Kikko. Quindi, complimenti a Shantaram per essere il vincitore di questo primo torneo e complimenti anche ad Alex per essere arrivato verso i tavoli finali. Ora, vi mostro la lista del vincitore. Eccoci qua con la lista vincente di Shantaram. Leader, chiaramente, Gohan. Abbiamo un 4x di questo Goku per scobroli fortissimo. Abbiamo un 4x di Gohan Sercino. Un 3x di Moha. Questo unicamente, in realtà, per vedere eventualmente l'extra. Per nient'altro, anche perché non abbiamo nessun Pargas nel mazzo. Dopodiché abbiamo un 3x di questo Goku. Molto esotica come scelta. Se abbiamo un Gohan, praticamente, nella drop, diventa un 25.000 unicamente nel nostro turno. Ci può stare sì e no. Dopodiché abbiamo il 4x di questo Trunks. Anche lui, tanta robetta per poter gestire la bordo avversaria. 4x di Vegeta per rampare, per spaccare pezzi piccoli della bordo avversaria. Un 1x di Goku Promo. Eventualmente, se non vediamo Vegeta, possiamo rampare anche con lui a turno 4. 4x di Goku Cell. Carta totalmente sbagliatissima in combo. Sia con Broly che con Gohan. I costi non esistono più, raga. Se ne avete due in campo e pagate costo, vi guadagna un'energia. Cioè, sta carta qua dovrebbe essere once per turn. Punto. Punto. Ma proprio già non dovrebbe esistere. E in caso dovrebbe essere una volta per turno, non di più. E invece no. Può fare cose sporchissime. Un 3x di Gohan Super Saiyan che spacca un 4 meno. Abbiamo un 1x di Tarles eventualmente per rampare anche a turno 5 nel caso ce ne fosse il bisogno. Dopodiché una doppia copia degli androidi Double Strike. Un 1x unicamente di Gohan per recuperare un punto vita. Un 1x della Secret, 4x di Super Combo, 3x di Broly gigantesco costo 8. Un 2x di qualcos'altro che va in combo fortemente con Goku Cell. Un 2x di Gigantic Meteor. Se vedete un'energia libera nel verde vuol dire che può fare un 25.000 così. E per concludere abbiamo un 4x di Destructive Strength che non è mai abbastanza il modo di rampare per questo deck. Quindi volendo vedere lista abbastanza standard c'è quella qualcosina di spicy tipo questi Goku qua. E una mono di quest'altro Goku. Metti che non vedo uno dei Vegeta. Però nel complesso devo dire solida e standard come lista verde. E niente raga questa era la finale. Questa era la lista vincente. Direi che non ho nulla da aggiungere. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Rimanete sintonizzati per altri tornei. Vi ricordo che dal prossimo non sarà più iscrizione gratuita. Ma ci sarà da pagare una piccola quota per iscriversi. Ma in compenso ci saranno come premi in paglio bustine vere e proprie del primo set d'espansione. Quindi premi ghiotti raga. In ogni caso commenti qua sotto. Fatemi sapere che ve ne è parso di questa finale. Che ve ne pare del colore verde. Se andrebbe un attimino ridimensionato rispetto agli altri. Secondo me un po' sì. Raga un bacione a tutti. A prestissimo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.